Sarà sicuramente una partita complicata perché giocheremo alla Stella Azzurra, il campo è diverso, un po' più piccolo, sicuramente soffriremo di più, per caratteristiche ne soffriamo di più i campi più piccoli, quindi secondo me sarà una partita completamente diversa, sarà un'altra battaglia, dobbiamo giocare come abbiamo fatto oggi, chiusi dietro, ripartire, poi magari con un po' di fortuna trovare qualche altro gol.